Buongiorno, eccoci arrivati al momento in cui proviamo a mettere in pratica quello che abbiamo visto finora nella parte di teoria portando avanti l'esempio di applicazione che abbiamo già sviluppato la scorsa settimana nella parte di creazione di componenti senza interazione dinamica come sempre trovate l'esempio sul repository github, quindi il react scores che adesso ha un branch addizionale che si chiama width state in cui abbiamo sostanzialmente messo tutto quello che facciamo vedere in questa settimana quindi potete scaricarlo o clonarlo facendo attenzione a tirare fuori il branch corretto width state e se l'avete già scaricato nella vostra cartella locale clonando il repository potete semplicemente aprire il visual studio code o comunque anche un altro sistema di gestione di git e andare sul sistema di version control che è questo qui, il source control e andare a fare l'operazione di pull e aggiornare il tutto, cosa che io ho già fatto e poi qui in fondo a sinistra trovate i branch e andiamo a spostarci sul branch origin width state ovviamente bisogna sempre fare questa operazione senza aver toccato nulla nel repository locale altrimenti succederà che, piuttosto che sovrascrivere le vostre informazioni diciamo l'operazione di pull si interrompe in questo momento non ho fatto niente di particolare quindi io butto via tutte le informazioni attenzione, perché in questa maniera stiamo buttando via delle cose che potenzialmente se siete salvati dall'altra parte potrebbero sparirvi quindi facciamo continuare lo stesso l'operazione e attendiamo che termini e poi ci potremmo spostare sul branch di nostro interesse nel momento che abbiamo fatto questa operazione nei file questo è l'output ma non ci interessa in questo momento abbiamo i file che contengono il contenuto del branch corretto e quindi vedrete per esempio che in app ci sono tutta una serie di cose addizionali che adesso andiamo a commentare e a vedere insieme due cose che sono state aggiunte sono anche due file png cioè quindi due immagini che potete andare a visionare e che adesso lo facciamo insieme per sostanzialmente andare a rendervi conto qual era la struttura dell'applicazione prima e poi dopo il nostro intervento con questa lezione in cui commentiamo quello che abbiamo sviluppato e quindi questo è il secondo diciamo che ovviamente è una situazione molto più complessa ma ovviamente è riportata in tutti i dettagli e salverrori e che adesso andiamo a commentare più in dettaglio prima di iniziare come d'uso vorrei farvi vedere come funziona l'applicazione che vorremmo ottenere chiaramente nel momento in cui dobbiamo svilupparla dobbiamo averla in mente ma siccome noi l'abbiamo già sviluppata possiamo vederla così ci facciamo un'idea di quello che vogliamo ottenere questo perché questa è la prima volta appunto dunque abbiamo aperto il terminale e qui dentro siamo diciamo nella cartella solita principale del nostro progetto in cui abbiamo tutti i node modus eccetera e quindi sapete che basta fare npm start e verrà lanciato il server web e tutto quanto è necessario per far funzionare la nostra applicazione web caricherà localhost 3000 qui me lo fa in chrome che non mi piace tanto per le questioni di debug quindi preferisco aprirlo in firefox scrivendola a mano o di default chrome è il motivo per cui si è aperto e possiamo andare a sperimentare un po' quello che vorremmo ottenere quello che vorremmo ottenere è semplicemente l'interfaccia dell'altra volta questa è la stessa identica interfaccia in cui però abbiamo fatto funzionare le cose i vari bottoncini per esempio che so cancelliamo un corso schiacciamo come vedete questa volta funziona editiamo un corso abbiamo solo preso 24 web application 1 ovviamente noi aspiriamo al 30 e facciamo un modify e si è aggiornato il valore del web application piuttosto che possiamo inserire un nuovo esame così che che so software engineering ah no software engineering c'è già vabbè non andrebbe a sovascrivere diciamo non poniamoci troppi problemi in questo senso facciamo insert e comparirà un nuovo esame questo è quello che vogliamo ottenere così come nel momento in cui vogliamo editarne uno schiacciamo sull'iconina di editing ci comparirà la solita finestra di sotto sparisce il più c'è la lista di corsi bloccata perché in realtà noi vogliamo editare un corso specifico ed è quello che stiamo facendo e se vogliamo possiamo metterci un bel voto e eventualmente cambiare anche la data schiacciando modify questo viene riportato nella tabella con i voti ovviamente torniamo nella situazione precedente dove abbiamo il più che ci dice che possiamo aprire la finestra di sotto e aggiungere qualcosa quindi come vedete si è spostato perché questo è ordinato per data e quindi rimane sempre ordinato per data facciamo ancora una prova e quindi il controllo dipende ovviamente dal browser in realtà ecco 12.3 va bene e quindi dovrebbe andare in cima quindi e come vedete va in cima perché abbiamo deciso di ordinare la tabella prima della visualizzazione quindi ok quindi questo è il comportamento che desideriamo e vediamo come è possibile andare a organizzare il tutto prima di proseguire però ci tengo a precisare alcune cose prima di tutto nel momento in cui sviluppiamo queste applicazioni non c'è nulla di male nel diciamo vedere e riorganizzare l'applicazione mano a mano che andiamo avanti perché chiaramente non possiamo sapere tutto dall'inizio e quindi è normale che diciamo aggiungendo funzionalità l'applicazione e cambiando aggiungendo comportamenti ripensando un po' a come dovrebbe essere organizzata l'applicazione e così via ci siano delle cose da cambiare quindi non è sbagliato aver fatto qualcosa diverso prima perché non possiamo partire diciamo sapendo tutto quello che deve essere fatto come deve essere fatto e farlo diciamo nella massima precisione possibile senza più cambiare nulla perché lo sviluppo è un qualcosa che evolve mano a mano che pensiamo come organizzare le cose magari a un certo punto abbiamo sbagliato ci rendiamo conto che una cosa che possiamo fare in una certa maniera non è possibile dobbiamo spostare delle variabili e in questo caso in React parlando più di React riorganizzare una gerarchia questo forse è un po' più raro se l'abbiamo pensata relativamente bene all'inizio però dobbiamo sicuramente aggiungere delle properties passare nuove callback aggiungere delle funzioni magari spostare lo stato ecco lo spostamento dello stato è una cosa abbastanza comune perché sostanzialmente abbiamo scopriamo di avere necessità di accedere allo stato da magari un altro ramo della nostra gerarchia di componenti e sostanzialmente dobbiamo spostare lo stato fare il cosiddetto state lifting quindi il sollevamento dello stato a componenti più in su nella gerarchia dei componenti React così come poi possiamo pensare alle questioni relative ai componenti cercare di farli di tipo controlled nel momento in cui per esempio abbiamo dei form come andremo a vedere oggi però non sempre sarà possibile ogni tanto ci sono dei trade off e quindi dobbiamo un po' ragionare su queste cose mano a mano che sviluppiamo noi come sempre vi presentiamo una possibile soluzione diciamo a quello che intendiamo fare però nulla vieta di andare a capire provare ad utilizzare soluzioni alternative anzi più provate e ovviamente più imparate perché in queste cose si impara fondamentalmente facendo un po' con l'esperienza e se avete diciamo dubbi o domande relativamente a queste cose vi invito a chiederle durante le sessioni di come si chiede la video chat con domande e risposte e le sessioni di laboratorio dove possiamo appunto darvi dei consigli anche pratici operativi e farvi capire se è possibile quali sono le implicazioni di utilizzare certe scelte di sviluppo piuttosto che altre quindi mettere lo stato in un posto piuttosto che in un altro passare la proprietà passarne di più passarne di meno come fare a risparmiare diciamo se è possibile nel passaggio delle proprietà passarne e quindi organizzare al meglio la vostra applicazione secondo la vostra idea cercando di farvi ragionare anche sul fatto che appunto sia una cosa migliore o peggiore a seconda dell'idea che avete in prospettiva di come si vuole far evolvere poi l'applicazione il prossimo passo dell'applicazione sarà chiaramente la prossima settimana cercare di agganciarlo al lato del server perché per ora oggi avremo ancora diciamo tutte le informazioni immagazzinate sul client in javascript all'interno sostanzialmente di un paio di array che sono gli array che mantengono l'informazione dei voti e dei nomi dei corsi con il loro codice per prima cosa dunque andiamo ad analizzare qual è lo stato della nostra applicazione così come l'abbiamo lasciata intanto in questo diagramma che è stato sviluppato dal professor corno abbiamo un diagramma simil uml diciamo così in cui evidenziamo i componenti react e i componenti react sono nella forma di componenti che ci mostrano informazioni relative al nome del componente le sue proprietà quindi che sono precedute quindi da props quindi le proprietà che ricevono sostanzialmente e e e nel caso di componenti stateful come per esempio la exam table che avevamo lasciato con lo state che conteneva gli esami sostanzialmente abbiamo una sezione aggiunzionale che ci contiene lo stato appunto nel caso in cui abbiamo lo stato abbiamo la possibilità ovviamente di inserire metodi in questo momento non ce ne sono perché diciamo non era necessario avere un comportamento dinamico nella precedente diciamo versione della nostra applicazione nel momento in cui abbiamo delle properties queste properties possono anche essere dei riferimenti a funzioni che ci vengono passate e vedremo appunto che le useremo ampiamente perché queste funzioni saranno da richiamare per andare a fare delle modifiche nello stato nei componenti di livello superiore quindi dal pad in su e quindi scatenare poi tutto il meccanismo di react che aggiorna i componenti quindi aggiorna la relativa visualizzazione all'interno del DOM e che quindi viene portata alla visione dell'utente andiamo quindi a dare un'occhiata così tanto per ripassare come è costituita la nostra applicazione poi andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto in più bene la nostra applicazione è un'applicazione che ha un componente padre radice di tutti che sostanzialmente instanzia tre componenti figli senza stato pur presentazione quindi stateless component che non sono in grassetto e che quindi al più hanno delle properties per esempio l'app che contiene le liste degli esami e dei corsi passa questa lista di esami e corsi a exams course che poi a sua volta andrà a passarle giù fino alla riga che sostanzialmente ci consente di visualizzare la lista degli esami stessa cosa succede da questa parte e abbiamo poi la possibilità di avevamo predisposto diciamo il tutto per avere un form nel quale diciamo oggi andremo ovviamente a lavorare per renderlo attivo e funzionante come avete visto nella fase precedente del video in cui abbiamo fatto alcune prove su quello che volevamo attenere concentriamoci un istante sul lato diciamo qui della tabella quindi sulla porzione della tabella perché è quella che abbiamo sviluppato ovviamente la tabella mantiene l'informazione degli esami quindi la mantiene sotto forma di state e all'interno della tabella ci viene passati anche questi nomi dei corsi perché ci servivano per poter visualizzare il nome del corso piuttosto che il codice del corso e venivano calcolati se vi ricordate ad un certo punto all'interno di uno di questi componenti ecco questa freccia particolare che inizia col rombo significa che l'exam table quindi il componente exam table istanzia più di uno di questi componenti exam row quindi questo è naturale perché ovviamente la tabella è fatta di potenzialmente più righe però questo l'avevamo già risolto l'altra volta e appunto per esempio con una chiamata map sull'array che creava di exam row l'exam row a sua volta è composto da due elementi exam row data che avrà come props l'exam questi sono oggetti chiaramente quindi possono contenere a loro volta properties degli oggetti javascript al loro interno dell'oggetto javascript al loro interno e poi abbiamo i controls che sono quei due bottoncini modifica e cancella per quanto riguarda l'exam form data anche in questo caso abbiamo necessità potenzialmente di avere accesso all'exam e ai corsi per poter popolare il form nel caso in cui stessimo facendo l'editing di qualcosa che esisteva già quindi questa è più o meno la situazione in cui si trovava l'applicazione prima di portarla avanti appunto a farla effettivamente funzionare andiamo ora a esplorare diciamo lo schema dell'applicazione che abbiamo rilasciato su github che ovviamente è molto più complicato perché chiaramente per funzionare l'applicazione abbiamo necessità di passare tutta una serie di funzioni che svolgono le azioni che desideriamo per esempio la cancellazione dell'esame piuttosto che l'editing di un esame piuttosto che l'aggiunta di un esame l'aggiornamento di campi eccetera eccetera chiaramente questo schema l'abbiamo disegnato al termine dello sviluppo dell'applicazione non all'inizio non saremmo riusciti a disegnarlo se non in forma estremamente abbozzata all'inizio perché mano a mano che uno sviluppa diciamo capisce se tutto sta funzionando se magari ha bisogno di nuove properties se ha bisogno di passare ulteriori funzioni se ha bisogno di spostare lo stato come è stato fatto in questo caso e così via per esempio notate in questo caso che app che prima era vuota adesso invece contiene è diventato un componente stateful mentre non è più l'exam table perché abbiamo fatto appunto quel lifting dello stato e abbiamo portato lo stato esami che è sostanzialmente la lista degli esami che è quella che andremo a modificare con l'aggiunta editing cancellazione e così via dentro app e perché l'abbiamo fatto perché in realtà ne abbiamo poi necessità qui dentro l'exam form perché nel momento in cui vogliamo aggiungere un esame qui exam form vogliamo aggiungere un esame per esempio abbiamo chiamato qui do insert exam che è un metodo che va sostanzialmente poi ad agire sul a chiamare l'add or edit exam che ci viene passato dai livelli superiore che quindi riceviamo come properties in exam form questo add or edit exam è un metodo qui di app e non può essere diversamente perché la gerarchia di classi che abbiamo stabilito è fatta nella maniera per cui diciamo se dobbiamo andare a modificare qualcosa da questo ramo e da questo non può essere che qui il posto dove andiamo a mettere lo stato che va modificato quindi potremmo andare ad esaminare un po' più in dettaglio quello che abbiamo fatto possiamo farlo brevemente per esempio i row controls per farli funzionare ovviamente hanno bisogno di sapere prima di tutto a quale esame si riferiscono quindi anche in questo caso prima non abbiamo passato l'esame e qui invece lo passiamo dall'exam row di fatto ci basterebbe un identificativo dell'esame ma in questo caso non abbiamo un identificativo e quindi passiamo tutto l'esame così che tanto poi ci serve per andare a fare l'editing e quindi abbiamo poi due properties che sono sostanzialmente dei riferimenti e delle funzioni che sono require edit exam e delete exam che sono implementate in app e quindi vengono passate lungo tutta la catena vedete che ci sono sempre queste due properties require delete require delete require delete e che vanno giù all'interno della nostra gerarchia fino ad arrivare a row controls e quindi sostanzialmente sono delle funzioni che sono passate in giù come properties dall'app fino al nostro componente e che il nostro componente può richiamare per andare a modificare lo stato con un parametro e la modifica dello stato può essere fatta solamente dentro il componente stesso questo è il motivo per cui i metodi sono qui e devono essere passati in giù non possono chiaramente essere implementati in altro posto devono essere implementati nello stesso componente che ha lo stato da modificare ecco in più abbiamo open exam form open exam form che è sostanzialmente quello che succede nel momento in cui premiamo sul più che ci apre il form di sotto alla tabella open exam form ci viene passato in giù ed è di nuovo un metodo di app perché come abbiamo implementato il fatto che ci venga aperto il form oppure no abbiamo già messo l'altra volta peraltro uno stato che è il modo il modo in cui si trova l'applicazione cioè il modo può essere sostanzialmente può avere tre valori l'abbiamo lasciato come stringa e i valori sono view add or edit quindi se siamo in modo view non c'è non c'è niente qui nella parte di sotto infatti l'optional exam form se riceverà un mod che è pari a view sostanzialmente non fa rendering di niente e quindi non crea i componenti nel momento in cui il mod non è view sarà add o edit e allora tutta questa parte verrà creata e tutto questo verrà fatto in maniera automatica sulla base del valore di mod e open exam form vedremo che sostanzialmente va a cambiare il valore di mod e di tutto il resto se ne occupa React perché passando questa properties all'interno dei nostri componenti sostanzialmente siamo in grado di decidere come questi devono essere renderizzati ricordate che le properties sono utilizzate nel render per decidere qual è il return di questo render e quindi che cosa viene mostrato per la presentazione del componente stesso quindi è normale che appunto ci sia questo mod che viene qui e arriverà anche qui perché vedremo che a un certo punto ci serve sostanzialmente per passarlo al form data al form control form data sono i campi perché sulla base del mod vorremmo diciamo eventualmente bloccare quella lista di esami se facciamo l'editing di un singolo esame come abbiamo visto prima e il mod ci serve anche per il form control perché vogliamo scrivere una cosa diversa sul bottone se inserimento piuttosto che modifica e quindi il modo ci serve per decidere che cosa scrive notate che il modo viene passato anche nel ramo di sopra perché sostanzialmente il modo ci serve da un lato a nascondere il più che è quello che ci fa comparire il form quindi se siamo in modo view il più va visualizzato altrimenti no e poi viene passato anche in questa catena arrivando fino ai raw controls perché nel momento in cui abbiamo il form aperto vogliamo disabilitare i raw controls non vogliamo che si agisca sui raw controls nel momento in cui si può agire sul form di sotto prima bisogna decidere cosa fare col form chiudere il form eventualmente anche con un cancel che semplicemente lo farà sparire sensazioni allora in questo momento verranno riabilitati i raw controls quindi questo è tutto il flusso logico del funzionamento della nostra applicazione ecco in realtà c'è ancora un edited exam che ci serve sostanzialmente a indicare qual è l'esame sul quale stiamo lavorando nel momento in cui appunto vogliamo fare l'edit e approviamo il bottone di edit sull'esame e questo ovviamente verrà poi passato come property exam che è quello sul quale vogliamo andare a lavorare con il form nel momento in cui ovviamente lo stiamo editando perché nel momento in cui facciamo il delete lo passeremo come parametro lo sparirà e non ci sarà bisogno di settare nulla quindi questo è un ulteriore stato che magari per esempio ecco questo è l'esempio di qualcosa che magari non abbiamo pensato all'inizio ma nel momento in cui dobbiamo scrivere l'edit exam passiamo un parametro che sarà l'exam la props exam che ci viene passata e dovremo andare a capire come farla arrivare al form e come farla arrivare al form è sostanzialmente il modo è uno solo è quello di passarla come parametro a un metodo che è un metodo qui sopra dei app che viene passata all'ingiù nelle properties e che sostanzialmente va a cambiare lo stato il cambiamento scatena il rendering di tutti i componenti che sono diciamo calcolati sulla base di questo stato e siccome noi passiamo una property come valore dello stato di app ovviamente il ramo di sotto verrà renderizzato sulla base di quello che diciamo di fare in questo caso tramite il bottone appunto di editing all'interno della riga della tabella spero di avervi reso l'idea di come diciamo si muove l'informazione all'interno della nostra nuova versione dell'applicazione riguardatevi questo schema con calma anzi anche confrontandolo poi con il codice perché appunto vi può servire da guida una guida molto più dettagliata di quella dell'altra volta in cui avevamo appunto giusto abbozzato diciamo dove erano le properties e lo state nella nostra gerarchia perché appunto è assolutamente importante capire in questo esempio come si muovono vari flussi di informazione e adesso andiamo a vedere effettivamente come andare a implementare nel codice così da darvi qualche indicazione su come effettivamente fare poi a risolvere effettivamente il problema perché chiaramente qui stiamo dicendo per esempio che so sì abbiamo passato una funzione e poi qui la chiamiamo la chiamiamo con un parametro sì però a livello pratico che cosa scriviamo è vero che l'abbiamo già visto nella lezione teorica quindi nelle slide però andiamo a vederla implementata in pratica per ognuno degli aspetti principali della nostra applicazione andiamo quindi a vedere nel codice mi raccomando di avere la versione corretta with state piuttosto scaricatela con uno zip se non siete pratici del meccanismo qui del kitab e non diciamo è l'importante appunto che abbiate la versione corretta e che andiamo a vedere la versione corretta bene questo è app che nelle versioni precedenti era sostanzialmente vuoto tra l'altro ecco se avete scaricato col git ci sono anche dei controlli abbastanza comodi per esempio all'interno del viso studio code ma anche nel webstorm che magari prossimamente proveremo a utilizzare come ambiente di sviluppo e che vi consentono di navigare facilmente sulle versioni precedenti per esempio qui vi fa vedere la modifica le modifiche che sono state fatte potete andare ancora all'indietro e così via quindi ogni commit questa è una modifica ogni commit è diciamo così navigabile navigabile in maniera anche abbastanza intuitiva e qui vi fa vedere cosa è stato aggiunto dalla versione precedente alla versione successiva per esempio adesso parleremo poi di mount e di vari diciamo metodi aggiunti e così via come vedete sono tutti nuovi è vero che avevamo già un ad exam quindi in realtà l'applicazione era leggermente più complessa forse no in realtà ho sbagliato ecco questo era il commit corretto bisogna sempre andare a vedere qui qui non ci dice il messaggio del commit comunque avevamo a rendere e l'abbiamo implementata in diciamo due o tre commit l'ha implementata dal professor conno per la verità io ho solo dato una mano diciamo così dietro le quinte però questa è la versione iniziale e quindi se andate avanti avete la versione finale queste finestre sono finestre semplicemente di esplorazione che potete chiudere tranquillamente nel momento in cui volete il file basta andarla aprire qui a sinistra chiaramente avete tutta tutta una serie di informazioni potete andare a navigarveli diciamo diciamo per conto vostro imparare come funziona per conto vostro non è fondamentale diciamo che è un'abilità interessante da sviluppare però diciamo non è fondamentale per imparare le cose che spieghiamo qui all'interno del corso utilizziamo github fondamentalmente come repository e poi chi è interessato può provare appunto a usarlo anche come sistema di controllo di versione che quindi sostanzialmente ci consente di appunto navigare nelle varie versioni del codice però noi cercheremo di rendere il più semplice possibile l'accesso alle varie versioni per esempio questo messo in un altro branch quindi vi ho fatto vedere prima come si fa per esempio all'interno del browser accedere a quella versione vediamo quindi per prima cosa app app in cui per prima cosa abbiamo diciamo aggiornato lo stato e di nuovo rispetto alla versione iniziale ecco dicevo rispetto alla versione iniziale non trovavo più quello che avevo fatto prima sostanzialmente è stato reso un componente di tipo stateful quindi era già una classe ed è stato aggiunto appunto il costruttore e tutto quanto e nel costruttore abbiamo inizializzato lo stato e lo stato abbiamo deciso di farlo appunto come mostrato su quella su quello schema precedente quindi abbiamo gli exams i courses i mod e l'editeg exam ovviamente nel costruttore dobbiamo inizializzare immediatamente e quindi è vero che avremmo potuto anche fare l'operazione di andare a prendere da quell'array fisso quindi quello che adesso è stato messo in API i nostri fake esami esami finti e corsi finti però sostanzialmente abbiamo fatto come in un'applicazione invece più reale anche perché poi lo dovremo fare volo in questa direzione all'inizio non ci sono informazioni perché vanno caricate dal server quindi gli array sono vuoti il modo è vista perché vogliamo semplicemente visualizzare la tabella la forma verrà aperta dopo e l'editeg exam è nulla e non ci interessa in questo momento nessuno sta editando niente dopodiché ecco l'operazione da fare ecco è ovviamente che è popolare gli esami corsi perché senza di questi ovviamente l'applicazione farebbe vedere una tabella vuota e quindi ecco facciamo finta di caricare gli esami dal server e questa operazione la facciamo ricordatevi il ciclo di vita dei componenti subito dopo che il componente diventa esistente nel momento in cui è esistente e quindi è stato montato è arrivato in quello stato in cui si dice montato e quindi reagirà poi agli aggiornamenti diciamo del suo stato e proprietà tramite l'operazione di rendering però prima di fare l'operazione di rendering andiamo a diciamo richiamare l'informazione del server ovviamente in questo momento non parliamo con il server quindi facciamo finta che ci sia il server e quindi è stato fatto questo modulo API API.js che sostanzialmente contiene i nostri array finti che prima erano lì dentro e poi due funzioni asincrone che andremo a riempire la prossima volta che ci ritornano semplicemente gli array quindi gli esami e i corsi e li esportiamo e va bene e quindi le possiamo utilizzare e le usiamo come se fossero funzioni asincrone come se fossero delle fecce eccetera essendo asincrone ritornano a promise quindi sul den prendiamo quello che è ritornato che sono gli esami e i corsi e facciamo this state exam e corsi e quindi andiamo ad aggiornare le due proprietà con l'array corretto quindi abbiamo fatto finta di caricarle dal server ovviamente qui non succede perché li carichiamo sostanzialmente da un modulo javascript che ce li ha già andiamo a vedere gli altri metodi che abbiamo implementato seguendo sempre il nostro schema che abbiamo visto prima quindi vedete che qui ci sono i metodi per aggiungere cancellare eccetera eccetera e quindi per esempio cominciamo con uno semplice delete exam ovviamente aggiorna lo stato e aggiorna lo stato tramite una funzione ricordatevi perché stiamo ricordate quello che abbiamo detto riguardo a come gestire gli array nello stato questo è il link a quella che abbiamo consigliato anche sulle slide nell'ultima parte delle slide come gestire gli array quindi prendiamo lo stato vecchio andiamo a prendere lo stato vecchio exams siccome appunto l'aggiornamento è asincrono vogliamo farlo in questa maniera con la callback usiamo il filter che ci ritorna un nuovo array che verrà impostato quindi in exams e la cancellazione è molto semplice cioè ritorniamo tutto tranne nel momento in cui il course code è quello dell'esame che ci interessa e ovviamente exam è il parametro che passiamo quindi la delete exam dovrà essere chiamata con un parametro che è quello dell'esame che vogliamo cancellare ex invece è il parametro che passiamo alla callback della filter e che quindi scorre su tutto l'array di exams delete exams vediamo come viene passata delete exams sarà una proprietà di exam scores che è il componente di livello inferiore delete exam quindi this delete exam e andrà giù se seguiamo il nostro schema delete exam exam scores e delete exam exam table exam row e row controls e quindi andiamo per lo meno per questa prima più semplice quindi seguiamo tutto quanto ogni volta viene passato delete exam props delete exam exam row row controls arriviamo a row controls dove finalmente usiamo il delete exam e il delete exam viene usato come qualcosa agganciato all'evento un click nel momento in cui clicchiamo sull'icona del delete che è l'icona del delete questa qui che abbiamo richiuso uno span per poterci mettere un click passiamo e passiamo non possiamo passare direttamente la funzione non possiamo scrivere props delete exam perché dobbiamo passare un parametro per chiamare una funzione di cui abbiamo riferimento nella props che vogliamo chiamare con un parametro il modo di farlo è questo scrivere una funzione che quindi qui la scriviamo sotto forma di arrow function che prende il parametro che disegneriamo noi che è props exam che quindi è un ulteriore parametro che verrà passato props exam che è lo stesso della exam row data che è quello che corrisponde quella riga della tabella quindi questa chiamata tornerà andrà ad operare sul controllo che abbiamo visto prima che è quello in app e che ci consente di andare a modificare lo stato cancellando quell'esame dalla array degli esami contenuti nello stato di app intanto notiamo che abbiamo fatto poi la stessa cosa così non ci torniamo più anche per il require edit exam quindi per l'iconina di editing e passiamo l'esame qui abbiamo semplicemente detto di fare rendering condizionato al fatto che il mod che è quella di nuovo proprietà che vedevamo prima che ci dice in che stato siamo e che di nuovo è passato mod come proprietà sempre all'ingiù praticamente a buona parte dei nostri componenti questo se view allora mostriamo queste iconine altrimenti non mostriamo niente ricordatevi che vanno sempre messe insieme ma queste le avevamo già viste l'altra volta questo è il fragment react fragment quindi se è vero allora and and andiamo a ritornare quello che sta a destra se invece è falso ovviamente ritornerà falso e quindi non verrà visualizzato nulla torniamo sulla nostra app quindi eravamo sul delete exam e vi faccio ancora notare una cosa questa è stata implementata come error function mi raccomando di ricordarvi dell'error function perché altrimenti poi il dis qui il dis non funziona se non è fatto con un error function o meglio come vi ricordate si può fare senza l'error function ma è necessario poi nel costruttore fare la bind la bind del dis correttamente al componente ok quindi abbiamo nel exam component abbiamo require edit exam andiamo a dare un'occhiata come è implementato require edit exam che è subito sopra in realtà è molto semplice come vedete set state e demanda tutto react ecco questa è la potenzialità del meccanismo dei componenti di react cioè qui non stiamo dicendo apri il componente andiamo a lavorare sul DOM crea il DOM eccetera eccetera ci pensa react perché noi modifichiamo lo stato e diciamo che il modo è edit non più view quindi aggiorniamo il modo e passiamo o meglio scusate non passiamo inseriamo nello stato il nostro edit exam react sa già da solo che nel momento in cui si chiama la set state ci saranno una serie di componenti di cui bisogna fare render e queste dipenderanno da come diciamo questa modifica sullo stato va a modificare le properties dei vari componenti i componenti prendono come parametri le properties e sappiamo che i componenti nel momento in cui passiamo alle stesse properties hanno la stessa visualizzazione quindi react andrà ad aggiornare solo quello che è necessario dove è necessario dove vede che ricalcolando le properties queste cambiano e quindi andrà a chiamare il metodo render su quei componenti otterrà il virtual DOM così ripassiamo e poi dal virtual DOM farà la differenza col virtual DOM precedente e capirà quali sono gli elementi nel DOM reale da aggiornare e l'aggiornerà in batch e quindi tutti in un colpo solo all'interno del browser e quindi così la visualizzazione sarà aggiornata però notate appunto che qui facciamo una semplice operazione di set state e questa scatena tutta quella cosa che abbiamo visto prima cioè sull'applicazione ecco magari andiamo a rivederla sull'applicazione cioè questo è quello di cui stiamo parlando facciamo un click qui track e sparisce il più viene visualizzato questo viene popolato il form viene scritto modify perché siamo stiamo appunto facendo l'editing e non l'aggiunta e così via se invece avessimo schiacciato più facevamo appunto insert o add insomma prima di andare a vedere nel dettaglio come sono fatti altri componenti in particolare il componente del form che è uno degli argomenti che abbiamo imparato questa settimana diamo un'occhiata per esempio al metodo di aggiunta o editing dell'esame qui si è stato fuso in un unico metodo di nuovo sotto forma di error function per non doverne fare la bind nel costruttore this set state quindi anche questo fa solo un'operazione di set state e di fatto va a modificare gli exams che è quello che ritorna come nuovo stato e quindi viene messo insieme allo stato precedente e quindi diciamo courses rimane così mod rimane così e se non modifichiamo niente il resto rimane così ma quello che modifichiamo ovviamente viene aggiornato come facciamo a fare la modifica aggiungendo un esame in realtà l'aggiunta è stata fatta in questa maniera nella maniera in cui per la verità abbiamo detto meglio non fare però tanto per fare esercizio cerchiamo anche di capire bene le cose perché l'abbiamo fatta così perché in realtà noi abbiamo avuto durante lo sviluppo la necessità di fare un'altra cosa prima perché siccome volevamo fare anche l'editing nel momento in cui facciamo l'editing del corso vogliamo per prima cosa rimuovere questo corso se già c'è perché noi dobbiamo creare uno nuovo ricordate che abbiamo sempre necessità di creare un nuovo oggetto un nuovo se un valore react è chiaramente un valore come numerico stringa ovviamente reaction accorge immediatamente che è cambiato ma nel momento in cui un oggetto dobbiamo cambiare riferimento all'oggetto cioè vuol dire creare un nuovo oggetto così come dobbiamo creare il nuovo array che poi alla fine vuol dire cambiare riferimento all'array cioè ottenere un riferimento diverso perché è riferimento ad un array differente quindi la filter sappiamo che ci ritorna un nuovo array quindi da questo punto di vista stiamo tranquilli quindi build state è un nuovo array che è derivato da state exams quindi un array in cui facciamo filter eventualmente se non ci fosse il course code settato anzi se l'exam diciamo non ci fosse ci ritorna l'array così com'è e quindi all'inizio sostanzialmente nel momento in cui facciamo anzi nel momento in cui facciamo l'add c'è un nuovo esame questo esame non matcha con niente quindi la filter ci ritorna una copia intera del nostro array facciamo push il valore di ritorno alla push è buttato via il numero di elementi come scrivevamo anche sulla slide ma questo va bene perché noi abbiamo modificato il build state che era un nuovo array quindi sul nuovo array possiamo andare a fare la modifica e poi in più ci facciamo anche l'operazione di sort così tanto per fare un po' di pratica confrontando la data confrontando le date come avete visto nell'esempio ci vengono fuori in ordine e poi alla fine ovviamente ritorniamo un oggetto che andrà ad aggiornare tramite l'operazione di merge lo stato e react fa per noi quest'operazione di merge in più facciamo una seconda operazione sempre nell'addor edit exam quindi possiamo chiamarla set state più volte fa un secondo merge dell'operazione mod view quindi andiamo in modalità visualizzazione perché dopo che abbiamo fatto l'aggiunta l'abbiamo fatto tramite il form ovviamente vogliamo tornare in modalità view cioè visualizzare solo più la tabella e il più che serve ad aprire il form alla fine ok quindi questo è e react ce lo farà di nuovo automaticamente così come ce lo faceva con l'edit perché col view avremmo il controllo del form che era l'optional form exam se non è view cioè scusa se è view fa nulla quindi fa sparire tutto e alla stessa modo avevamo adesso non mi ricordo più il nome andiamo a condividere table controls no table controls che di nuovo fa la stessa operazione exam for controls dobbiamo andarcela a cercare table controls ecco table controls se è view ok se no return null ok bene quindi l'open exam form l'open exam form di fatto va semplicemente a mettere mod add edit exam null non abbiamo nessun esame da editare quindi e sostanzialmente dobbiamo solo far comparire il form e questo di nuovo è tutto fatto automaticamente da react tramite l'aggiornamento dello stato che scatena tutto l'aggiornamento della vista dell'applicazione prima di procedere con il form andiamo ancora a vedere un componente importante che era la tabella quindi l'exam table e sostanzialmente abbiamo il map sugli exams che sono passati come proprietà la lista degli esami da visualizzare ovviamente in ognuno viene creato l'exam raw ma questo l'abbiamo già visto l'altra volta abbiamo la chiave abbiamo usato il codice del corso rispetto all'altra volta abbiamo fatto questa piccola modifica l'altra volta abbiamo preso exam come proprietà e gli avevamo messo dentro diciamo anche il nome del corso qui in realtà l'abbiamo portato fuori quindi passiamo l'esame e e basta e poi passiamo una proprietà addizionale exam name che è quella che abbiamo calcolato a partire dal codice del corso che diciamo avevamo calcolato in un altro posto del codice mi sembra nel padre nella gerarchia nella gerarchia era l'exam scorse nell'exam scorse avevamo fatto questo for per crearci questo oggetto che alla fine usavamo come re associativo indecizzato dal codice del corso che ci dava il nome che quindi passavamo poi all'ingiù nel course names e che ci ritroviamo in exam table e quindi ci viene comodo per diciamo calcolare il nome dato il codice del corso il course code calcoliamo il nome e poi passiamo ai metodi sempre i metodi come abbiamo visto prima anche il modo e in exam row in exam row andiamo a exam row data andremo a prendere exam name e exam.score prima in precedenza c'era exam.name perché avevamo messo tutto dentro ma per pulizia abbiamo preferito tirarlo fuori ecco una cosa che potete notare poi è un piccolo compromesso a cui siamo dovuti scendere nel senso che poi per una questione del form abbiamo dovuto gestire la data come stringa in un preciso formato perché altrimenti il form non funziona con il tipo di date e quindi questo ci crea qualche piccolo gratta capo diciamo che dobbiamo gestire in qualche in qualche maniera e però questi sono diciamo dettagli di programmazione che non sono importanti per la questione di diciamo di come organizzare l'applicazione veniamo ora a parlare della dei diciamo del form quindi abbiamo fatto diventare il form un componente con stato perché così abbiamo detto di fare nelle lezioni perché alla fine vogliamo fare dei controlled components per quanto riguarda gli elementi del form quindi nell'exam form data mettiamo gli elementi ma sono dei controlled components perché alla fine usano il metodo update field e mantengono aggiornato quello che c'è scritto nel nel campo del form con quello che c'è scritto all'interno dello stato di exam form che quindi li gestisce tutti e tre insieme quindi qui c'è un unico componente ma in realtà il render di questo componente produce tre elementi del form andiamo pure a vederlo quindi abbiamo l'exam form ma poi abbiamo l'exam form data che è un po' complicato cioè è un po' lungo da scrivere solamente ma il primo è una select quindi la lista dei corsi il secondo è un input input type number e il terzo è un input input type date che è quello che ci consente di selezionare la data quindi stiamo sfruttando i controlli HTML5 per andare a fare la nostra implementazione il form il form il form è stato trasformato in qualcosa che è adesso con stato quindi nel costruttore come abbiamo fatto in app andiamo a settare lo stato inizializziamo lo stato e dobbiamo solo fare un po' di attenzione perché nel momento in cui diciamo abbiamo il form il form può essere vuoto o pieno e pieno cioè è già riempito perché stiamo editando un corso e quindi dobbiamo diciamo capire se appunto nelle props c'è l'exam e quindi non è null allora useremo l'inizializzazione tra l'altro qui abbiamo fatto lo spread delle properties e quindi l'oggetto dello state conterrà sostanzialmente le properties pari a quelle dell'exam come abbiamo visto tra l'altro sullo schema quindi course code score e date altrimenti conterrà qualcosa che inizializziamo a mano tutto quanto a null ok bene ecco una piccola nota riguardo a questa operazione non è particolarmente bello fare questa operazione cioè quella di inizializzare lo stato con delle proprietà perché perché nel momento in cui facciamo questa operazione questa operazione viene effettuata solamente in fase di creazione del componente quindi se poi le proprietà cambiano per qualche motivo lo stato non viene più aggiornato perché lo stato sarà aggiornato poi solamente nel momento in cui facciamo la set date quindi dai vari metodi che però devono essere richiamati da qualcuno e react non ci richiama react l'unica cosa che fa è creare il componente quando è necessario e impostarci lo stato all'inizio col valore delle proprietà quindi questo non è non è un diciamo non è una buona pratica di programmazione però diciamo che il nostro esempio che è relativamente semplice in questo caso la tolleriamo perché perché diciamo aggiustarla ci avrebbe richiesto una complicazione addizionale non volevamo complicare troppo l'esercizio cioè in sostanza nel momento in cui la property che sostanzialmente qui è solo le zam che utilizziamo cambiasse dobbiamo fare in modo che qualcuno ci aggiorni il nostro non ci aggiorni scusate ma ci ricrei il nostro componente perché l'aggiornamento avviene avviene nel momento in cui cambia le properties il problema è che non cambia lo stato e di conseguenza non cambia quello che viene visualizzato all'interno dei campi del forum non mi dilungo di più su questo aspetto chi è curioso può andare un po' a cercare su internet a fare google su google diciamo andare a cercare update initialize state with properties e andare a capire un po' i vari problemi ci sono dei modi per risolvere questa questione però diciamo che questo ci porta un po' fuori strada rispetto a quello che vogliamo mostrare in questo esempio poi chi è curioso eventualmente può chiedere o cercare per conto proprio però diciamo che inizialmente per lo meno per come abbiamo congegnato la nostra applicazione come avete visto l'abbiamo provata e funziona perché tutte le volte che andiamo a fare un'operazione su un esame e di fatto una volta che abbiamo aperto il form non andiamo più a fare aggiornamenti di quel form e quindi in realtà inizializzare le properties all'inizio nel nostro specificissimo caso va bene ok andiamo a vedere come è fatto a render che crea il form data in cui passiamo l'informazione dello stato quindi sostanzialmente il course code score e date che vanno poi a finire nei tre elementi del form tre elementi che visualizziamo sull'interfaccia quindi curso score date e poi abbiamo i controlli che sono i bottoni i bottoni che prenderanno anche loro il mod dicevamo prima per poter visualizzare modify piuttosto che insert e poi ci sono qui c'è la callback che diciamo va a fare il due insert exam che poi è un po' complicata la vediamo dopo perché deve andare a fare la validazione del form prima di andare a vedere quello vediamo come funzionano i controlli exam form data a cui passiamo l'informazione e in questo caso ci sono piccole questioni tecniche diciamo da andare a risolvere quando poi passate dalla teoria alla pratica per esempio non possiamo lasciarli null e se voi fate delle prove poi finisce che vi rimangono bloccati i controlli del form quindi quegli elementi e quindi bisogna inizializzarli a stringa vuota perché così nel momento in cui poi vengono presi come proprietà per esempio prendiamo l'input number che è più facile come value mettiamo props exam score che è quello che riceviamo da qui sopra che viene preso da this state score se è vuoto diciamo tutto fuzzese invece mettete null poi scoprite che non funziona quindi questo ha nome score ecco tra l'altro qui stiamo seguendo lo stesso meccanismo che abbiamo suggerito sulle slide quando avete tanti controlli date dei nomi uguali a quelli che usate poi nello stato infatti qui abbiamo usato score e nello stato abbiamo usato score stessa cosa per course code e date bisogna solo adattarsi alle specificità dei vari controlli quindi tipo select select ok name course code e poi dobbiamo andare poi a gestire bene come sapete qui tutti usano il value però per esempio che so c'è la da disabilitarlo nel caso di editing perché come avevate visto nell'applicazione non volevamo fare in modo questa è una nostra scelta non volevamo fare in modo che il corso fosse modificabile nel senso che schiacciamo sull'edit web application 1 e questo rimane bloccato e questo è implementato proprio esattamente in questa linea di codice disable che dipende dal mod se siamo in modo editing e non in modo view e non in modo add allora vogliamo fare questa operazione tutte le volte quando abbiamo fatto un change andiamo quindi rileviamo l'evento un change andiamo a chiamare una callback e lo facciamo con questo formato che è quello che abbiamo già visto tra l'altro anche nell'occasione della giunta del corso e quindi scrivendo una callback e andando perché vogliamo passare degli specifici parametri alla nostra funzione update field in questo caso che è unica per tutti e tre come vedete facciamo sempre name value name value in tutti e tre quindi andiamo a vederci quest'update field quest'update field name value imposta lo stato per la proprietà questo è calcolato è una computed property degli oggetti in javascript e quindi va a prendere il valore di name e lo usa come nome della proprietà da aggiornare e ci mette dentro value e così siamo riusciti con un'unica riga sostanzialmente a fare l'aggiornamento dello stato solamente per la proprietà che ci interessa che ha lo stesso nome del controllo e quindi siamo a posto e non dobbiamo fare ulteriori operazioni bene dopodiché andiamo a quindi a vedere cosa fa ecco il cancel exam quindi il bottone diciamo quindi avevamo l'update l'update quindi abbiamo capito che diciamo è il modo di gestire con dei controlli ed components i tre i tre campi del nostro form che possiamo andare a modificare da parte che l'utente può andare a modificare andiamo a vedere come funzionano ecco i forum controls cominciamo dal più semplice primo che è il il cancel il bottone di cancel un click chiama semplicemente props cancel che è quello che ci veniva passato prima che stavo facendo vedere prima quindi cancel this cancel anzi scusate this do cancel quindi è qui dentro il do cancel non fa nient'ato che chiamare il cancel exam che è quello che ci viene giù dall'app ed è il cancel exam che come vedete non fa nient'ato che settare il modo in view e basta l'edit exam null caso mai fosse già impostato qualcosa perché non ci interessa più e il view scatena automaticamente tutto il meccanismo che fa sparire il il form quindi nel momento in cui premiamo cancel fa semplicemente il set state mod view e tutto il resto lo fa react sulla base delle properties che vengono riaggiornate quindi ci fanno ricomparire per esempio questi controlli piuttosto che questo cioè queste iconine piuttosto che queste e così via tutto fatto da react e quindi bisogna entrare in questa mentalità in cui appunto organizziamo le cose in maniera che poi secondo di come si propagano le properties e il loro valore l'applicazione assume lo stato e la visualizzazione che desideriamo noi andiamo adesso a vedere invece il bottone più complicato che dunque dobbiamo tornare in component che è quello che il bottone primario che prima di tutto sulla base del mod se add mettiamo insert se no appunto sarà l'edit e quindi fa il modify e va a chiamare con onclick prop insert che quindi ci verrà passato insert e l'insert va a fare do this do insert exam e notate di this state perché? perché di fatto dobbiamo inserire l'esame che ha come proprietà esattamente le proprietà dell'oggetto dell'oggetto exam esattamente quello che abbiamo detto messo in state quindi siamo stati diciamo così intelligenti in questo senso e abbiamo usato gli stessi nomi come proprietà dell'oggetto exam come proprietà dello state del form e come nomi dei campi del form quindi do insert exam in this quindi sarà implementata qui e la do insert exam ecco questa è interessante perché va a fare la validazione quindi quando dobbiamo fare la validazione del form si aprono due strade numero uno la facciamo tutta noi a mano con il nostro javascript quindi in react e quindi continuiamo ad utilizzare quest'idea dei controller components e quindi tutto deve essere fatto da noi avevamo anche suggerito delle librerie formi per farci dare una mano e quindi questa è un'opportunità secondo seconda possibilità e che è quella che abbiamo usato qui per farvi vedere anche qualcosa di un po' diverso è di andare ad utilizzare se ci basta ovviamente deve bastarci il meccanismo di validazione HTML5 questi metodi check validity e report validity sono metodi del elemento form di HTML5 che quindi deve essere possibile accedere direttamente quindi al di fuori di react qui stiamo uscendo da react questi non sono metodi forniti da react e anche this form chi ha impostato this form non è che l'abbiamo impostato nel costruttore come facciamo ad agganciare questo this form e fare in modo che coincida con il form proprio del DOM sul quale quindi abbiamo poi a disposizione questi metodi con i quali possiamo decidere che cosa fare quindi se è tutto valido fare l'operazione di aggiunto editing oppure far visualizzare ad HTML5 i messaggi di error nel caso in cui ci siano problemi bene come facciamo ad ottenere this form questo è il modo abbiamo detto che per di un control del component dobbiamo utilizzare il meccanismo di ottenere un riferimento da React abbiamo visto che ci sono due modalità una è quella di fare React Create Ref e ottenerci un oggetto riferimento che poi viene messo qui come attributo oppure mettere una callback direttamente qui come valore dell'attributo Ref nel JSX e qui abbiamo usato questo secondo metodo form freccia this form uguale form e quindi in questo momento viene creato il this form che quindi poi rimane accessibile all'interno del nostro oggetto quindi del nostro componente di tipo classe e quindi qui su this form potremmo chiamare tutti i metodi previsti dal DOM e questo è il modo che in cui abbiamo utilizzato il meccanismo fornito dal DOM quindi realizzando di fatto il form sotto forma diciamo di un componente uncontrolled perché di fatto se andiamo ad ottenere direttamente riferimento poi andiamo a chiamarci dei metodi usciamo dal controllo di React però ogni tanto può essere utile o certe volte addirittura indispensabile come per esempio avevamo fatto degli esempi il controllo per i file che non può essere impostato da javascript per questioni di sicurezza oppure che so il media player e così via che è tutta una serie di metodi che ovviamente React non è che replica quindi se dobbiamo controllare il media player farlo partire formare stoppare andare avanti indietro eccetera dovremmo usare i metodi messi a disposizione da HTML5 e quindi dobbiamo avere riferimento all'oggetto anzi all'elemento DOM di HTML5 quindi questo è il modo di realizzare questa funzionalità e vedete andiamo a provare ancora una volta l'applicazione che nel momento in cui c'è qualcosa che non va che so schiacciamo pure insert in questo modo che ovviamente non va perché non abbiamo inserito nulla e ci viene fuori i messaggi mostrati appunto con la chiamata che dicevamo prima è la report validity di HTML5 e infatti appunto questi sono messaggi HTML5 se che so mettiamo non lo so adesso qui non ci fa andare lì sotto però noi possiamo scrivere 16 così ci viene detto questo è il messaggio di HTML5 che è il browser qui è più difficile diciamo avere qualcosa che non funziona perché dovremmo scriverlo noi a mano ma diciamo HTML5 non ce lo consente e appunto questo è realizzato tramite quel metodo che dicevamo prima se invece tutto va dopo check validate e ritorna true e allora andiamo ad inserirlo o ad aggiornarlo se già c'era perché non abbiamo fatto questa piccola distinzione o meglio abbiamo scelto che se già c'era facevamo che aggiornarlo con quel meccanismo del add o reddit che abbiamo visto prima in app c'era add o reddit se già esiste lo prende lo butta via e poi ci mettiamo il nuovo questo codice vuol dire sostanzialmente quello ecco un'ultima cosa che vorrei sottolineare non perché sia fondamentale ma perché poi magari la vedete mentre analizzate tutto il codice nel dettaglio è che per far funzionare l'input type uguale date è necessario dare una stringa una stringa formatata in una certa maniera perché così appunto il controllo HTML5 funziona e questo diciamo fa sì che abbiamo dovuto rivedere un pochettino l'implementazione in JavaScript e quindi sostanzialmente abbiamo mantenuto date sotto forma in questo caso di string quando le passiamo come property quindi come props all'interno dei vari componenti e poi il momento diciamo corretto se necessario andrà convertito in date ecco new date per esempio nel momento nel momento in cui vogliamo che so diciamo gestire un formato differente dovremmo preoccuparci di andare a fare le conversioni opportune che sono richieste diciamo da come vogliamo visualizzare le informazioni per esempio appunto qui vogliamo solo senza l'ora e tutto quanto e dobbiamo andare a gestirci queste problematiche quindi chiaramente qui è sotto forma di stringa che è la stringa iso e sostanzialmente va bene così per il nostro controllo però nel momento in cui abbiamo necessità di appunto abbiamo sostanzialmente un conflitto diciamo così tra quello che avevamo fatto prima e quello che ci serve dobbiamo un po' decidere come andare a riaggiustare la nostra applicazione sulla base di quello che riteniamo sia più opportuno fare per quanto riguarda appunto diciamo la gestione del nostro codice se riteniamo che diciamo così sia più comodo avere tutto quanto sotto forma di stringa perché fondamentalmente passiamo in giro stringa e ogni tanto avremo bisogno di andare a fare una conversione di altro tipo possiamo fare il refactoring in inglese quindi la riorganizzazione del codice per andare in questa direzione altrimenti forse allora in fase di gestione del componente quindi in questo caso del input type date allora ci faremo la conversione sotto forma di stringa in un formato che piaccia diciamo a questo input type date e viceversa nel momento in cui dobbiamo poi andarci a fare l'update field e quindi l'update field si complica perché deve gestire a parte il caso date e così via insomma sono tutti i soliti trade off di programmazione a cui siamo abituati e che diciamo sono quelle cose che dividono un po' la teoria dalla pratica nel momento in cui appunto avete poi da gestire tipi di dati un po' particolari e così via quindi un'ultima ultimissima commento e diciamo torniamo sul nostro diagramma ecco vi faccio notare come diciamo adesso che abbiamo visto sostanzialmente tutto il codice e che c'è uno stato quindi abbiamo mantenuto dentro exam form e sta bene qui nel senso che come avete ben capito non è necessario che nessun'altra parte del nostro codice abbia la possibilità di modificarlo direttamente abbiamo visto che c'è il add o reddit exam che lo può anche prendere come parametro e passare diciamo tramite riferimento alla funzione ad altri componenti però sostanzialmente lo stato deve essere aggiornato solamente da componenti che stanno al di sotto di exam form e quindi è locale a questa zona del nostro albero gerarchico dei componenti e quindi va bene così ed è anche quello che avevamo suggerito di fare per i form per fare appunto i cosiddetti controlled components che quando visualizzano un'informazione all'interno del campo del form poi questa informazione viene ogni volta che varia aggiornata immediatamente all'interno dello stato di un componente qui abbiamo centralizzato lo stato diciamo dei tre campi del form in un unrico componente che è questo exam form quindi è necessario imparare diciamo un po' prendere un po' di confidenza con questo meccanismo di funzionamento dei componenti di react con questo passaggio di informazione che viene tramite le properties che possono contenere anche riferimenti a delle funzioni anzi tipicamente contengono anche riferimenti a delle funzioni perché abbiamo necessità di andare a chiamare le funzioni che modificano lo stato su componenti più elevati più in alto nella gerarchia dei componenti e poi ci sono anche appunto parti che possono essere visualizzate o attivate diciamo solamente in caso di necessità e quindi distrutte ricreate quindi nel momento in cui il mod è view tutta questa parte non esiste più e il componente viene distrutto e verrà poi creato un nuovo componente nel momento in cui il mod torna ad essere non view quindi edit piuttosto che add creando i componenti nella loro modalità corretta quindi con i nomi corretti eccetera e questo viene fatto come avete visto da react in maniera del tutto automatica semplicemente perché noi andiamo a fare una set state qui dentro all'interno di app settando il mod corretto e se noi mettiamo il mod view tutto questo sparisce ce lo fa react in maniera del tutto automatico perché capisce che a un certo punto c'è un componente da aggiornare aggiorna questo componente e questo componente fa render in modo che non ci sia più niente altro e finisce qui e tutto questo sparisce sparisce dal virtual dom viene fatta la differenza con il virtual dom precedente aggiornato il dom del browser facendo sparire tutto quello che non c'è nel nuovo virtual dom e così via e analogamente mettiamo mod add e compare tutto e tutto ciò che non c'è viene creato e così via quindi questa è proprio la forza del paradigma di react e bisogna proprio entrare in questa mentalità in questa modalità di sviluppare l'applicazione e quindi fare pratica e diciamo provare a organizzare l'applicazione in maniera di avere un flusso diciamo corretto di proprietà incluse le funzioni e fare in modo di creare i componenti quando serve dove serve e mantenere lo stato nel posto corretto eccetera chiaramente non vi riuscirà tutto bene al primo colpo cioè non siamo partiti come dicevo da questo schema per realizzare l'applicazione ma mano a mano abbiamo sviluppato l'applicazione e poi alla fine una volta che tutto funzionato abbiamo provato abbiamo aggiustato tutte le questioni che non ci tornavano che richiedevano di spostare di nuova proprietà stati e così via abbiamo fatto questo schema che alla fine potremmo chiamarla così la documentazione finale dello stato della organizzazione della nostra applicazione quindi vi consiglio di sperimentare di provare e soprattutto per quanto riguarda il vostro laboratorio avete spero adesso avendo visto come abbiamo implementato il nostro esercizio una spero buona guida di come fare per implementare diciamo i vostri task quindi l'applicazione che gestisce i vostri task e quindi poter appunto aggiungere editare togliere eccetera fare tutto quello che disegna filtrare eccetera e provate ad organizzare diciamo il flusso delle proprietà della posizione dello stato eccetera nella maniera che ritenete più opportune ovviamente durante la sessione di domande e risposte piuttosto che durante i laboratori possiamo discutere e valutare i vantaggi e svantaggi e capire se c'è qualcosa che non riuscite a fare perché magari dovete spostare proprietà piuttosto che passare scusare lo stato piuttosto che passare altre proprietà magari aggiungere un nuovo elemento all'interno dello stato e cose di questo tipo va bene direi che è tutto diciamo per questa lunga lezione diciamo di esempio e quindi ci vediamo poi con prossime lezioni che diciamo approfondiranno ulteriori aspetti di reato grazie dell'attenzione